Buongiorno a tutti dalla Thailandia, questo è il quarto incontro di respirazione di pranayama. Quindi Nadi Shodhana, Nadi significa canale, Shodhana purificare, purificare i Nadi, i nostri canali energetici che abbiamo nel corpo e non soltanto energetici. Ogni respirazione i pranayama sono per disintossicare il corpo dalle tossine, tossine di quello che mangiamo, di quello che pensiamo, delle emozioni anche di quello che c'è attorno a noi. Vorrei iniziare direttamente con una breve spiegazione della luna. Perché la luna? Perché i yogi in India vedevano il corpo umano con la luna e il sole, questa è la parte lunare, questa è la parte solare. Quindi la luna cosa rappresenta in astrologia? La mente, le emozioni. La luna è la madre, la tua di madre, la regina. La luna nutre, porta il petto, il latte materno al bambino. Ma non soltanto, nutre tutta la famiglia, sta in cucina, cerca di mantenere la famiglia assieme, molto amore, molta compassione, vive nel cuore e anche rappresenta l'utero. Ogni volta che si ha un risentimento nel cuore, un dispiacere, può provocare rincore, odio. La madre, spesso le madri si preoccupano troppo. Ansia, crea ansia. Siccome la luna rappresenta la mente, tutti i problemi in relazione ai problemi mentali, tipo la schizofrenia, la bipolarità, eccetera, eccetera. Tutto in relazione con la luna. Ok? Un attimo. Questo qua, il sole. Quindi questa parte del mio corpo è emissiva. La luna è ricettiva e il sole è emissivo. Shakti è Shiva nel gioco del tantra. Chi è il sole? Il padre, il tuo di padre. È il re. La luna è la regina, il sole è il re. Governa? Governa. È un politico, fa parte del governo, quelle persone che dettano come dobbiamo fare le cose. Il sole governa l'ego, l'anima, l'orgoglio, la vanità. Ha anche il lato negativo, il sole. È generoso? Rappresenta il prana, la trasformazione. Però ha anche quel gioco di Amkara, Amkara, l'ego, che dobbiamo riuscire a trascendere. Cosa succede con il sole? Il sole, come Marte, sono pianeti di fuoco, raggiassico, pitta, anche il sole è saddico. Il sole, noi, quando siamo troppo confrontati alla vita, alle persone, ci molesta, diventiamo irritabili, prendiamo le cose troppo sul serio, ci facciamo del male, creiamo ulcere nel nostro sistema digestivo perché il fuoco brucia. Diventiamo, come Marte, aggressivi, possessivi e violenti, mentalmente, fisicamente. Quindi qual è il gioco di Nadi Shodhana? E non soltanto di Nadi Shodhana. Vorrei introdurre questi due pianeti, siccome stiamo parlando del lato maschile, questo qua, e il lato femminile, la respirazione Nadi Shodhana è giustamente un gioco per equilibrare la parte femminile e maschile. Prendiamo la mano destra, sempre. Con il pollice chiudiamo la narice destra e inizio. Respiro 4. Faccio questo movimento e cambio. Espiro 4. Inspiro 4. Cambio. Espiro 4. Adesso metto queste due dita qua. Inspiro 4. Cambio. Ed espiro. Inspiro. Cambio. Espiro. Questa è la prima. Questa è la prima. Vishnu mudra è questo qua. Per i yogi. Adesso facciamo un'altra. Blocchiamo su e giù. Il respiro durante 4 secondi. Quindi, inspiro 4. Mantengo 4. Cambio. Espiro. Mantengo 4. Cambio. Espiro. Mantengo 4. Cambio. Espiro. 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 E mantengo 4. Questa è una ida y vuelta. Un'andata e ritorno. Conta come 1. quindi abbiamo. Quindi abbiamo. Inspiro 4. Espiro 4. Inspiro 4. Espiro 4. Che è la prima. E la seconda. inizio. Inizio. Inspiro 4. Mantengo 4. Cambio. Espiro 4. Mantengo 4. Inspiro 4. Cambio. Mentre mantengo. E espiro 4. E mantengo 4. Questa è una ida y vuelta. Un'andata e ritorno. Si può fare 6 volte la prima e 6 volte la seconda. Oppure 12 volte la prima. Oppure 12 volte la seconda. Questo dipende da voi. Dalla vostra pratica. Dalla vostra esperienza. Di come volete investigare anche questa parte lunare e questa parte solare. Quindi un piccolo segreto. Quando espiriamo dal lato della luna espiriamo tutto ciò che rappresenta il rancore, l'odio, le preoccupazioni, l'angoscia. mentre che quando espiriamo dal lato del sole solare, espiriamo quel fuoco, come dicevo prima di Marte, l'aggressività che abbiamo accumulato dentro, la rabbia, la violenza, quel fuoco che vive dentro di noi e che ci fa, ci brucia, ci brucia dentro. Quindi eliminare, fare con il pensiero ha di eliminare, lasciare andare. E' una buona pratica perché non soltanto stiamo disintossicando il corpo fisiologico e fisico, ma anche mentale. E' una meditazione. Non è soltanto faccio un po' di esercizio e ascolto musica o guardo la tv. No, qua entriamo nel corpo, andiamo a cercare le nostre emozioni, quello che ci molesta, quello che vogliamo tirare fuori. Questa Nadi Shodhana, respirazione, è molto, molto benefica. Ok? Quindi abbiamo adesso tutte e quattro. Kapalavati, Maha Yoga Pranayama, Bastrika e oggi Nadi Shodhana. Le ho scritto tutte e quattro lì sotto nel prossimo video che vorrei fare di respirazioni. E' una grande respirazione, più o meno un venti minuti, di andare attraverso queste quattro respirazioni. Adesso abbiamo tutte le spiegazioni, con i piccoli segreti che ci sono. E nel prossimo video facciamo la pratica assieme. D'accordo? Io vi mando un grande abbraccio dalla Thailandia. A presto e al prossimo video. Ciao. Ciao.